Un cucciolo sarebbe morto, un altro invece avrebbe avuto forti attacchi epilettici e convulsioni, il tutto in seguito ad una vaccinazione che sarebbe risultata poi scaduta. Un veterinario valdarnese è stato così segnalato per commercio e somministrazione di medicinali guasti, truffa, gravata, continuata, uccisione e maltrattamento di animali. Le indagini, portate avanti dai carabinieri della stazione di Levane, erano partite a seguito della denuncia dei proprietari dei cuccioli. La coppia aveva portato a vaccinare una ventina di cagnolini, di questi uno appunto era morto in seguito alla vaccinazione, mentre l'altro si era sentito male, accusando un forte attacco epilettico e convulsioni. Successivamente i proprietari si erano accorti che erano stati utilizzati in medicinali scaduti. Dopo alcuni accertamenti preliminari, i carabinieri di Levane, in collaborazione con i militari del NASA di Firenze, hanno eseguito una perquisizione nello studio, nell'abitazione e nell'auto del veterinario. Sono stati così trovati e sequestrati i vaccini, fiale di insulina ed altri medicinali, tutti scaduti di validità nel periodo 2016-2018. Sono stati infine sequestrati anche i due libretti canini con la somministrazione dei vaccini scaduti.